Cresce l'allarme nelle campagne pugliesi per furti, taglio dei tiranti dell'uva, danneggiamenti per cui Coldiretti sta allertando e collaborando con le prefetture provinciali. Nelle province di Foggia e Batt, le bande criminali stanno colpendo i tendoni di uva da vino e da tavola con furti di prodotto e taglio dei tiranti dei tendoni, per cui è stato richiesto un incontro urgente ai due prefetti per territorio di competenza, dice Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia. Per cautelarsi ed evitare quanto accaduto nelle annate precedenti, durante la raccolta delle mandorle a grumo e palo del colle, gli agricoltori si sono rivolti ad associazioni private, costituiti da ex agenti della Polizia di Stato, per presidiare campagne e raccolti e comunque sono stati segnalati furti di mandorle già sgusciate, a dimostrazione del fatto che il territorio è molto vasto e va pattugliato in maniera capillare. Forte la preoccupazione, aggiunge Coldiretti Puglia, per la prossima campagna olivicola alle porte, quando i quantitativi di olive che si potranno raccogliere, già ridotto all'osso dalle gelate, varranno tanto da essere predambita di bande criminali italiane e straniere. La Coldiretti di Foggia, partecipando al tavolo in prefettura, ha segnalato casi e luoghi dove si ripetono gli episodi criminali, per collaborare con le forze di polizia e continuare nell'attività di individuazione dei punti più sensibili, dove si moltiplicano le attività criminose.